Nell'ospedale Santa Maria di Bari è stato eseguito un intervento per la rimozione di un tumore al colon retto utilizzando il sistema robot denominato Ugo. Si tratta del primo caso in Puglia. La delicata operazione è stata messa a punto dall'equip guidata dal dottor Antonio Brown, responsabile di chirurgia generale, su un paziente di 66 anni. Il robot Ugo è uno dei robot di ultima generazione. Ha la possibilità innanzitutto di braccia separate dei moduli a sé stanti che interagiscono in maniera simultanea con una console centrale che viene comandata dall'operatore. Questa console ha un sistema di visione tridimensionale e di controllo degli strumenti che può essere variato durante l'intervento chirurgico. La patologia oncologica del colon retto è tra i tumori più diffusi negli uomini con circa 26.800 nuove diagnosi nell'ultimo anno. La tecnologia robotica consente al paziente una serie di vantaggi. I vantaggi con il paziente della chirurgia robotica sono sicuramente l'approccio mini-invasivo. Il paziente viene operato con minore impatto su quello che è lo stress chirurgico di parete e soprattutto il vantaggio fondamentale è una visione ottimale che consente di effettuare dissezioni molto più precise e quindi eseguire gli interventi in maniera oncologicamente corretta. Con una preservazione e un risparmio di quelle strutture nobili che altrimenti in altre situazioni potrebbero essere sacrificate.